occhiali intelligenti che danno la vista ai ciechi è stato creato ad oxford un dispositivo che permette di vedere anche a chi affetto da gravissimi disturbi alla vista e vede solo luci ombre si tratta di occhiali dotati di una micro telecamera che firma quel che il paziente ha davanti a sé un micro computer rielabora le immagini ne amplifica i dettagli e in tempo reale proietta sulle lenti dell'occhiale che il paziente indossa un'immagine corretta potenziata al punto che anche a chi ha una visione residuale bassissima riesce a vedere ma a vedere cosa tutti i pazienti coinvolti in un test hanno raccontato che gli occhiali sono stati molto più che un miglioramento hanno parlato di uno strumento risolutivo gli occhiali sono al momento un prototipo non hanno una grande visibilità e il paziente deve portare sulle spalle il computerino che li fa funzionare ma la strada è stata tracciata